Un'andrangheta che giova del fatto che l'attenzione si sia spostata e che si sta riorganizzando sotto altre forme, meno classiche, quelle che insomma latitano negli ormai triti e ritriti libri sulla mafia. E questa è in estrema sintesi la riflessione di Rocco Mangiardi, imprenditore lamettino che non solo ha denunciato i sia guzzini, coloro che gli chiedevano il pizzo, ma è stato anche il primo ad avere il coraggio di indicarli in tribunale. E' ormai da qualche mese, a perer mio, che non si parla più di andrangheta in Calabria. E' quasi come se l'andrangheta non fosse mai esistita, e quasi come se in Calabria questa montagna di merda fosse stata definitivamente debellata, scrive sulla sua bacheca Facebook. Ma le cose non stanno così, spiega Mangiardi, prima membro dell'associazione anti-racket e ora di Libera, da anni sotto scorta. L'andrangheta in questo momento di distrazione popolare si sta riorganizzando, facendo gli affari migliori di tutta la sua storia. Apre e compra oro, apre i suoi sportelli al credito chiamati finanziarie, lava i soldi sporchi reinvestendoli nei posti più belli e lussuosi del globo. Credo, riflette l'imprenditore, che il popolo calabrese sia stato volutamente, o forse non volutamente, distratto da altre tematiche propinate nella giusta dose, come fosse una medicina per dimenticare un passato che non è mai passato e dove invece, nel presente, quella montagna di merda sta diventando più alta dell'Everest. Grazie. 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 Grazie.